Passerei al sindaco di Cagliari e vicepresidente Anci che è anche delegato in materia di trasporto pubblico locale e traffico urbano per Anci. Magari ci può dire qualcosa sulla sua città, perché so che siete impegnati anche qui in un processo di rinnovo della flotta green di autobus e poi a livello invece di delegato Anci quali sono le priorità e quali sono le difficoltà che incontrate. Buongiorno a tutti, la mia città ha una caratteristica che tra le città medie è la prima per il trasporto pubblico locale da ormai dieci anni e col PNRR stiamo facendo un investimento importante che ci porterà nel 2026 a avere l'80% della flotta totalmente elettrica e nel 2030 il 100% con un servizio che è ampiamente apprezzato dai cittavini, un investimento di quasi 200 milioni di euro che ha come obiettivo anche quello di non solo trasformare i bus, ovviamente comprare nuovi bus elettrici ma anche quello di adeguare l'impianto, la struttura, l'infrastruttura, quindi riuscire anche a fare i depositi con le stazioni di ricarica e le stazioni di ricarica intermedia perché poi quando si mette in strada un bus elettrico dobbiamo assicurarci che possa fare il percorso con serenità e non si fermi. Per quanto riguarda invece il sistema dell'investimento delle infrastrutture italiane, io credo che i numeri abbiano parlato in maniera molto chiara all'inizio ci hanno dato un quadro di tante città, di tanti comuni italiani che stanno facendo un lavoro straordinario un lavoro straordinario con enorme fatica, però io stamattina racconto un aneddoto ho incominciato la giornata con un servizio di un noto telegiornale italiano che parlava del caos del traffico dovuto ai cantieri nelle città e intervistavo ovviamente i cittadini che sono imbestialiti giustamente perché ogni giorno devono affrontare situazioni di difficoltà e qualcuno diceva ma non si potevano fare prima, non si potevano fare durante il covid perché tutto era fermo quando tutto era fermo. La verità è che oggi noi abbiamo queste risorse e stiamo facendo questi investimenti importanti che trasformeranno le nostre città e i comuni sono protagonisti perché come diceva ieri il sindaco De Caro il 25% degli investimenti nazionali arriva dai comuni proprio perché c'è stato il covid, perché abbiamo avuto quelle risorse e dobbiamo anche cominciare a spiegare a tutti che un cantiere è gioia, è un'opportunità, è bellezza come diceva ieri Renzo Piano, non possiamo pensare che il cantiere sia solo disagio perché dietro un cantiere che fra l'altro quelli che riguardano la mobilità sono tutti sulle strade e quindi impattano quotidianamente sulla vita di ognuno di noi, c'è almeno un professionista che ha lavorato c'è un'impresa, ci sono gli operai, c'è l'indotto, sono tutte persone che poi a loro volta prendono uno stipendio acquistano una pizza, comprano un libro, comprano un vestito, fanno economia, fanno girare l'economia italiana e soprattutto pagano le tasse, aiutano noi sindaci a mantenere i servizi ad alto livello e non li abbiamo alle porte degli sportelli, delle politiche sociali per chiedere un contributo quindi dietro questo grande investimento che il paese stanno facendo e stanno facendo i sindaci, stanno facendo i comuni, c'è la spinta alla crescita del paese Comunque voi avete cambiato, mi sembra che i dati che mi riportano che a Cagliari dove si girava solo in auto, grazie al fatto che avete messo più autobus sembrerebbe a bici proprio come dico io, però funziona più mezzi pubblici hai e più la gente non usa la macchina Noi abbiamo due caratteristiche che un po' sono strane siamo una delle città che ha una delle percentuali più alte di auto per abitante ma abbiamo un sistema di trasporto pubblico che funziona benissimo e che stiamo incentivando quest'anno abbiamo fatto fra l'altro un'iniziativa che ha permesso a 17.000 cittadini della città metropolitana non solo cagliaritani di acquistare l'abbonamento all'autobus con uno sconto del 90% quindi siamo passati da una spesa di 300 euro anno a una spesa di 30 euro anno abbiamo permesso a tutti di poter utilizzare il mezzo pubblico per incentivare e creare una cultura dell'utilizzo del mezzo pubblico anche perché ritornando a quello che si diceva prima il mezzo pubblico è molto più sicuro dell'auto la percentuale di incidenti dei mezzi di trasporto pubblico è 10 volte inferiore rispetto a quella delle auto e stiamo investendo anche grazie al lavoro con la regione su due linee di metropolitana metropolitana leggera proprio per modificare le abitudini di utilizzo delle auto e soprattutto per offrire un'opportunità ai cittadini perché io credo che con la clava non si attenga mai niente se invece forniamo ai cittadini delle opportunità la scelta tra il mezzo pubblico e l'auto e capiscono che il mezzo pubblico è più conveniente dal punto di vista economico e del tempo che impiegano negli spostamenti allora avremo vinto la nostra sfida grazie davvero, grazie sindaco